Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui è Amicozzo, benvenuti su questo nuovissimo video di Fortnite che stiamo per fare quest'oggi perchè quest'oggi ho intenzionato di provare a battere un mio record in singolo, ovvero cercare di fare più kill possibili per cercare di superare le 24 kill in singolo Allora, come vedete, ora procederemo al caricamento, stiamo usando la skin più rara del gioco, la Renegade Rider, la invincibile, inarrestabile skin che mi piace veramente tanto, addirittura più della Google Allora, io vi ricordo di mettere un bellissimo mi piace, un commentone ed iscriviti al canale perchè arriveranno tanti altri video di Fortnite come questo Per cui mi raccomando, spolliciate ragazzi, soprattutto condividete video con i vostri amici perchè sarà una bella partita, spero di superare appunto il mio record e portarvi un bel game sul canale Allora, vediamo un po' come ci parte la partita ragazzi, spero di non bestemmiare, spero di non dire cavolate, spero di non morire soprattutto male Insomma, spero che comunque le cose vadano per il meglio Vi ricordo intanto che i provini del clan sono quasi aperti, potete aggiungermi tutti quanti XYZ Omega in alto a sinistra su Epic Games Potete giocare insieme a me, al mio team, tutti quanti, perchè prossimamente ci saranno dei provini Ma li ho già fatti a qualcuno, non sono stati accettati però, aggiungetemi così se volete potete anche giocare con me Ok, vai, subito Allora, abbiamo una pistola Mori, 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 mori E mori Ok E' il primo ragazzi, è andato, esguire, road to 24 o più Allora, questo ci alziamo, togliamo questo, non ci serve Sento casino, sento casino Ecco, no, no, allora, guardate, aspettate, guardate come si fa con questo qui Ah, non vuole uscire Ok, allora Rompiamogli qua E' dato, e' dato Oh caccia, ha il bomba, ha il bomba Allora, questo può essere un problema Attenzione, sento un altro Non mi ha visto, mi sa Oh, mori, oh Oddio, oddio, è tipo di vita Uuuuh, ragazzi, madonna Già freneti con la seconda kill, questo game Intanto mi sparo gli scudini No, c'era il bomba lì, vabbè Ah, niente, mi devo sparo gli scudi, non posso rischiare Ok, sento tanto casino, guys A corso con me, ciò, è diventata la nuova pinnacoli E io c'è un altro Mori Finalmente, ok, ho recuperato un pompa Cade tutto Vediamo le bende, questo buttano Ricarica, ricarica, ricarica Sento altra gente, saranno altri due Molto probabilmente Allora, intanto Ho venuto un'idea Spacchiamo il letto Chiudiamo qui Usciamo da qua Vamos, ragazzi Porca miseria Questa varietà Piuttosto che dobbiamo fare Ma si sorridi tutti qua Ma non capito C'è gente, c'è gente, c'è gente No S'è arrivato tardi È qui Eh no, non mi prendi Tranquillo che così non mi prendi Spacchiamo qua Ok, ragazzi Vi faccio vedere Come si uccide un tizio Che campera in una casa Se ci riesco Allora Mi sparano Chi è che mi spara? Dai, vieni, fatti sotto Tu che stai qui dietro No, qui dietro Non c'è nessuno Ma dove cavolo stavo? Non riesco a peccare Siamo ancora a 3 kill Come pensiamo di arrivare a 24 o più? Mi sa che è arrivato qualcun altro Sì, sì, è arrivato qualcun altro Ma ci penso io 1, 2, 3 Bello fratello Ascara No, no, non mi ha sparato Uuuuh Bella per lui Bravo Megos Anzi, bravo la Renegade Rider Ragazzi, ma mi ha sparato Al Al Per secondo salto Però vabbè Dettagli Infatti mi prenderemo una mitraglietta Colpi di pompa Che mi servono Se no Ma perché rimangono sospese per alle cose? Madonna Ok, ragazzi Siamo carichi Sono a 4 kill 44 persone ancora vive Ciò possiamo fare? Allora, questo non mi ha visto Questo non lo facciamo fuori Ragazzi Si è seccato a camperare Sta a camperando da un sacco di tempo Ma io oggi non gli vado addosso Forcavolo che gli vado addosso Perché lui sta a camperando E poi vedevi uccidere Capito proprio male Oh merda Che spavento Ok, vai Vuoi fare la franga con me? Vai Provaci Cosa non hai fatto una co... What? No, 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 no Cosa? Mi stai raccontando? Vuoi fare il beat battle con me? E faccio... Ecco Manco si può fare il beat battle in pace Che arriva uno che si deve Però non evitare di essere Appunto buttati giù Ecco E me ne scendo qua Faccio i cazzi miei Ok, allora Abbiamo uno che ci ha sparato Uno lì Eccolo, eccolo Ok, l'ho hittato un po' Dai, vieni, dai Bravo Vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua Oh, sorpresa No, no, no Sparalo, sparalo, sparalo Sparalo Che scasso Mamma mia Ok, ragazzi Questa partita mi sembra La partita più tosta Del momento Con gente che non schiatta Gente tutta fullata Tranne io Vabbè Dettagli In questo caso È meglio aspettare L'attesa, ragazzi È sempre la cosa più Oddio Scusate Meglio non cavoreggiare Quando Ci sto Aspettate Ma c'è uno qui dietro Oh, ecco Aspettala Questo posso prendere Vai, vai, vai Ora, ora, ora Sciottalo, sciottalo 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 Vabbè Questo ho capito Si vuole Ne arriva un altro ancora Ma quanti sono Ragazzi Sto facendo dei fight Pazzeschi Porca miseria Vai, vai Costruisci Builda, 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 builda Mi vuoi fregare Mi vuoi fregare Ne sta un altro Ancora una No, me l'hanno rubato Bastardi infami Vabbè Questo lo prendo io intanto Vabbè Cerchiamo un attimo Di organizzarci Ecco Questo lo prendiamo facile Laserato 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 Wow Ok Mi brucio troppo Per una kill Senza Aia Senza Intanto Mi prendo il loot Ok Spendiamo Questo Bella così Ragazzi Oddio Dove è uscito questo Vita 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 1 2 3 Mamma mia Il p90 L'ho scioglto Ok Ora mi sta sciogliendo lui Topata Wow E anche questo è andato Signore e signori Arriviamo alle ultime kill A vincere la partita Io spero proprio di sì Perché è una partita Tantra E' una partita eccezionale Ok La safe Sta a 1 e 27 Vedete che la ce la dovrei fare Che devo prendere Questo lo prendo Il loot di quello Sta là Ah Di scudini lo vedo assolutamente Ok ragazzi Sono appriciatissimo 7 kill di start Sono ancora 29 persone vive Fate che magari altre 20 kill Faccio Arriva a 27 Ce la possiamo fare E' fottibile Eh sta arrivando la safe Oh merda Quanto è lontana Questo Eh no Mi sa che non ce la faccio Mi sa che arrivo con 40 di vita buona Barra 30 Ah no aspettate Qui ci sta l'aereo Ci sta Ragazzi prendiamo l'aereo Prendiamo l'aereo Assolutamente Ok Dai prendiamo questo aereo Andiamocene via Ah già Che adesso Che hanno distrutto Che hanno diminuito La forza degli aerei Non si può più Aspettate Vediamo se è vera sta cosa Perché dicono che non puoi più volare Se Dai Come Non è possibile ragazzi Non è possibile Cosa mi devo Ora voglio per la safe Non ci voglio che Oh aspetta aspetta Adesso è venito bene Shotalo Scioglilo Dai E che l'ho stavato No 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 ragazzi Questo si sta lontando Per essere ucciso dalla safe Infame Ecco mi ha fatto perdere tempo Lo sapevo Lo sapevo ragazzi Sono morto Vi giuro che è bestemmio Seguo questa bella partita Che poteva essere Una partita ottima Per arrivare a dot kill Bestemmio Ve lo giuro Devo pure spaccare tutti i muri Se no non me ne posso andare Di qua No vabbè ho sbagliato Forse mi dovevo No ma che faccio Non ci passa Non ci passa Spacca questo muro maledetto No ragazzi Vi giuro 7 kill di start Sono già arrivate a 23 persone Cos'altro devo spaccare Sto andando nel palico Perché non va Devo spaccare tutto Sto a tre tanto di vita Non ci arriverò mai Dai dai Per favore Per favore Spacca Andiamo Lo fa apposta Girarsi No ragazzi Lo sto facendo apposta Questo è un gioco di merda Veramente Un gioco di merda C'è una cosa buona C'è negli aerei Guarda Lo fa apposta Girarsi Adesso 17 di vita Ma è un gioco di merda Questo È un gioco di merda Vai Dai Dai Come si fa Così Ma porca Madonna È impossibile Questo gioco di merda Ma va Here we go Ma dai Come si fa Essere schiantato così Come Come Ragazzi Mi stai dando un attacco di pane Ve lo giuro Non mi sono mai incazzato Vi giuro Mai incazzato così tanto Ve lo giuro Non mi sono mai incazzato così Tanto C'è era uno starter Di 7 kill Favoloso Facciamo 8 Quello si è ammazzato 30 persone vive Quel cazzo di aereo Che non parte Ma non è possibile Non si può giocare in questo modo Ma è un gioco di merda Dai Porca miseria E devo battere Devo spaccare tutto Poi ditemi Se uno Non si deve incazzare Perché andare fuori di testa Io non lo capisco Boh Veramente Mi fa incazzare come una iena Sta cosa Mi fa Inervosire Calmi Ormai È andata Che vuole Giustamente ho bestemmiato tutti E mi hanno detto Tutto bene Stai tranquillo Stai a posto Ma loro non sanno Perché è venuta mia madre Tutto a posto E non sanno che 7 kill Era un bellissimo starter E poi Quell'aereo di merda Ora si Fido il caccio Basta Basta Se questo video vi è piaciuto Vi invito a mettere un bellissimo mi piace Un commentone Iscrivetevi al canale Perché abbiamo tanti video di Fortnite E questo video Era seriamente Vi data i migliori di 18 anni Cioè È stata la miglior partita Più bella Che abbiamo mai fatto Uno starter Bellissimo Ma Non per le kill Per le 7 kill Che comunque sono poche Perché oggi Sono venuto con uno starter Di 10 Ma avevi fatto di come l'ho giocata Camperando Cioè Loro hanno camperato E gli ho stanati Cioè È stato un fight Proprio duro E duraturo Quindi Per me è stato veramente bello Quindi Vi invito a mettere un bellissimo mi piace Un commentone Seguimi su Instagram Che trovate qui in descrizione Per essere stati In tutti i prossimi video Anche di Fortnite Quindi mi raccomando ragazzi Seguitemi A bomba Che vi aspetto Direi che per questo video è tutto Come cozzo La renegade rider Madre Non fate più il pensare Ci vediamo tutti quanti Al prossimo video Dove cercherò di spaccare il record Bella per tutti Ciao